Buongiorno a tutti, vediamo come rappresentare questo solido su AutoCAD, successivamente dopo la parte 3D andremo a realizzare le proiezioni ortogonali dello stesso. Per prima cosa realizzerò una linea verticale, quindi attiverò orto, lunga 80 per trovare il centro di questi cerchi e poi successivamente dal punto centrale di questa linea lunga 80 farò partire una linea orizzontale verso sinistra, lunga 106 per trovare appunto questo punto che rappresenta il centro dei due cerchi con raggio 11 e diametro 12 dei fuori passanti. Allora, avviamo AutoCAD, inizia disegno, disattivo la griglia, attivo orto, abbiamo detto comando linea, clicco in un punto a caso e faccio una linea verticale lunga 80. Aumento lo zoom con la rotellina del mouse, comando linea, partendo dal punto centrale di questa mi sposto verso sinistra di 106. Adesso sono pronto a realizzare i vari cerchi che sono praticamente 1, 2 e 3 con raggio 11 e poi i fuori passanti B con diametro 12. E' ovvio che io faccio cerchio centro raggio 11, cerchio centro diametro 12, li seleziono entrambi, tasto destro copia, seleziono come punto base il centro dei cerchi e vado a fare due copie. Posso adesso andare a cancellare queste due linee, adesso dovrei unire praticamente la tangente di questo cerchio più grande con la tangente di questo. Però ovviamente non posso fare una linea che va da tangente a tangente, allora diciamo prendo in giro un attimo AutoCAD e vado da quadrante a tangente e poi torno da tangente a tangente. Quindi la prima linea, che è questa, la vado a cancellare. Sotto possiamo fare o la stessa cosa o semplicemente facciamo uno specchio. Quindi specchio, seleziono questo, invio, clicco qui nel quadrante e clicco qui nel quadrante. Invio. Comando linea, qua dietro invece la linea parte dal quadrante e finisce nel quadrante. Taglia, invio. Vado a tagliare uno, due e tre. Quindi abbiamo fatto tutta questa piastra, la parte esterna su cui si poggiano poi questi cilindri e questa parte qui. Allora, adesso so che il centro appunto di questi cilindri o cerchi in questo caso è a distanza 23 rispetto a questa linea. Quindi io partendo qui dal punto centrale di questa linea mi sposto verso l'interno di 23. Quindi linea da qui 23. Il punto finale di questa linea, lunga 23, rappresenta il centro dei due cerchi che hanno raggio 16 e foro passante diametro 14. Dove li trovo? Raggio 16 qui e poi qui c'è una A foro passante con diametro 14. Quindi molto semplicemente cerchio centro raggio, clicco qui, 16, invio, cerchio centro diametro, clicco qui, abbiamo detto foro passante 14, invio. Questa linea possiamo già cancellarla, crea una linea da qui, lunga 18, per quale motivo? Perché da qui a qui ci sono praticamente 18 di distanza. Questa parte è spessa 8, quindi ho fatto una linea dal punto finale di questa fino a questo quadrante. Adesso andrò a fare offset 4 da una parte e dall'altra. Questa la cancello, taglia, invio, vado a tagliare tutta questa parte. Ovviamente anche la parte centrale la cancello. E qui vado semplicemente a chiudere. Allora, questo è quello che vedo osservando questo pezzo in maniera frontale. Io adesso lo metto un attimo da parte, quindi ne faccio una copia, tasto destro, copia, metto qui di lato. E incomincio, diciamo, volendo a cancellare alcune parti che in un certo senso potrebbero non servirmi. Però, allora, innanzitutto, diciamo questo, poi lo ottengo facendo direttamente un cilindro, a mio parere. Quindi creo questa parte qui, possiamo andarla a spostare, la mettiamo qui. Perfetto. Quindi reg, regione, prendo tutto e premo invio. Creazione eseguite di 5 regioni, 4 sono i cerchi più questa regione qui. Adesso, SO assonometrico, ovviamente estrudi, 1, 2, 3 e 4, invio. Andrò verso il basso di 17, quindi 17, invio. Invio per ripetere il comando estrudi. Di questo qui, invece, vado verso l'alto e vado a vedere praticamente la lunghezza di qui, l'altezza di qui, scusate, 50. Comando cilindro. Quel cerchio che ho cancellato prima, lo vado a rifare direttamente col comando cilindro. Quindi ho trovato il centro, in questo caso diametro, 14, invio. Abbiamo detto che è passante, quindi deve essere minimo 50 più 17, quindi minimo 67. Io lo faccio addirittura più lungo, tanto poi lo dovrò sottrarre. Quindi sottrai, da questo e questo, invio, voglio sottrarre 1, 2, 3 e 4 cilindri. Abbiamo fatto, diciamo, tutta questa parte. Manca solo questo. Allora, prima cosa che proverò a fare è praticamente selezionare questo. Andare a fare una linea da questo punto centrale lunga 18, la coloriamo diversamente. Allora, sfrutto innanzitutto il punto finale di questa linea rossa per andarla a riposizionare correttamente. La linea rossa la cancelliamo. Magari sempre con il rosso è più facile. Cerchio, centro, in questo caso raggio. 16, invio. Taglia. Seleziono come limite di taglio 1 e 2, invio. E taglio questa parte di cerchio. Come vedete, in rosso si vede, ho creato una regione chiusa, che è fatta praticamente dalle tre linee, che ho posizionato correttamente andando a riportare una linea qui lunga 18. Poi ho rifatto questo cerchio, sfruttando il centro, diciamo, del cilindro. Ho tagliato in modo tale da andare a chiudere questa area e adesso posso creare una regione. Una, due, tre e anche la linea rossa. Invio. Ovviamente è diventata rossa la regione perché avevo lasciato qui attivo il colore rosso. Però non è un problema. Lo seleziono e cambio il colore. Estrudi. E vado fino a questo punto, cioè altezza 50. Adesso dobbiamo semplicemente tranciare. Per poter tranciare io devo creare una linea, che poi estruderò e quindi creerò una superficie, che va da questo punto fino a questo punto. Preferisco cambiare il colore, così la rendo più evidente. Sposto l'asse Z, quindi clicco su questi. L'asse Z lo metto in questa maniera qua. Estrudi. Prendo la linea. E creo una superficie, ovviamente l'ho fatta molto molto più lunga, che va praticamente, realistico, a tranciare. Vedete questa superficie come trancia questo solido? Ovviamente trancia. Seleziona gli oggetti da tranciare. L'oggetto da tranciare è questo. Invio. Punto iniziale di piano di tranciatura oppure superficie. Superficie. La superficie è questa. Selezionare il solido sezionato da mantenere. Voglio mantenere questo. Questa qua la cancello. È ovvio che togliamo il realistico, mettiamo il wireframe. Qui c'è ancora la linea. La cancello. Realistico. Uni. Ossia unione. E vado ad unire tutto in un unico solido. Quindi questo è il solido che abbiamo ottenuto. Allora. Questo lo cancelliamo, semplicemente. Togliamo il realistico e impostiamo il wireframe. Togliamo vista personalizzata, dato che mi sono mosso con orbita libera, e rimettiamo neanche se o assonometrico, ma alto. Questo è, diciamo, la parte bidimensionale che abbiamo rappresentato in precedenza, di cui abbiamo fatto una copia per ottenere appunto la parte 3D. Adesso, semplicemente, vado a dividere in maniera molto approssimativa l'area di lavoro in quattro parti. Questo lo spostiamo nel piano verticale, perché se noi lo dobbiamo rappresentare in proiezione ortogonale, così com'è in questa immagine, io suppongo, no, di doverlo osservare frontalmente, e questa qui la vista, diciamo, la vista dall'alto sarà questa che vedrò di qui, e la vista laterale è questa che vedrò di qui, da sinistra a destra. Quindi una vista già ce l'abbiamo. Stesso discorso che ho fatto nel video precedente. Andrebbero impostati i layer in maniera corretta, in modo tale da avere a disposizione vari tipi di linee, come ad esempio le linee proiettanti, che saranno continue e più sottili, le linee degli spigoli in vista, che saranno continue ma più spesse, le linee degli spigoli non in vista, che saranno non continue, quindi tratteggiate, e sempre sottili, magari anche gli assi di simmetria che devono essere rappresentati, quindi a non rappresentarli stiamo facendo un errore, e che anche quelli andrebbero fatti magari con linee sottile e un tratto che si chiama tratto punto. Quindi noi tutte queste cose le stiamo omettendo, però lo sappiamo che le stiamo omettendo. Allora, prima cosa, cambio colore, almeno quello, linea, mi riporto vari punti. Allora, la piastra sotto è 17. Questa la posso tagliare. Questa parte invece la posso cancellare. Allora, questa è la piastra di sotto, questa qui. Ovviamente la piastra di sotto viene, diciamo, attraversata da tre fori passanti, quelli B. Quindi noi adesso ce li andiamo a riportare. Ovviamente due punti saranno sovrapposti. Quindi linea. Da qui. Vado qui. Io la spezzo così, non devo neanche tagliarla, ma posso semplicemente cancellarla. Vedete, questo punto e questo punto sono sovrapposti. Stesso discorso per questo punto e questo punto che sono sovrapposti. Queste le cancello, semplicemente. E adesso cosa devo fare? Beh, queste qui sono praticamente delle linee tratteggiate. Quindi le devo andare a tratteggiare. Cosa faccio? Innanzitutto vado a caricare la proprietà sotto sotto qui, carica, tratto punto 2. Ok. Le seleziono. Perché queste non sono, scusate, tratto punto. Dovevo caricare tratteggiata. Tratteggiata 2. Perfetto. Quindi le riseleziono. Tratteggiata 2. Il tratteggio, il passo del tratteggio non mi piace, quindi lo seleziono. Tasto destro, proprietà, scala, 0.5. Perfetto. Allora, adesso continuiamo a proiettare. Questo. Fino qui. Questo fino qui. Sappiamo che il cilindro ha un'altezza di 50, quindi faccio offset 50, invio. Prendo questo e lo proietto fino qui. Taglia, invio. Taglio tutto ciò che non mi serve. Questa è la parte del cilindro. Queste qui le cancello. Il cilindro, diciamo, visto, in questo caso dall'alto. Poi dipende sempre come decidiamo di posizionare. Ovviamente deve essere attivo lo snap perpendicolare. Queste le cancello. Stesso discorso per cui, anzi, queste qui sono passanti, quindi arrivano fino al fondo. Anche in questo caso, tratteggiata. E il tratteggio deve essere uguale dappertutto, quindi proprietà, scala, 0.5. E' ovvio che se si decide di, diciamo, poggiare, immaginare di poggiare sul piano in maniera diversa questo pezzo, beh, ovviamente le viste cambiano. Magari questa potrebbe diventare la vista dall'alto, questa la vista frontale e così via. Questo è normale. Ci manca questa parte qui, linea, da qui a qui e da qui a qui. Questa la cancelliamo e questa è la vista, in questo caso, terminata. Cambio il colore. Posso decidere di spostarmi un po' più vicino. Perfetto. Adesso devo andare un po' a, diciamo, proiettare, sempre con il verde. Grazie. Grazie a tutti. 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 Abbiamo già proiettato la base. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vedo che le proiettanti in realtà non vanno cancellate ma vanno lasciate. Io però per ottenere un disegno più pulito le sto eliminando. Allora questa qua è uno spigolo in vista, spigolo in vista, spigolo in vista, queste due rappresentano il foro passante, quindi stesso discorso di prima. Modifichiamo le proprietà e anche la scala. Perfetto. Grazie a tutti. Allora ovviamente mancano in questa rappresentazione tutti gli assi di simmetria. E questo è già un errore. Poi dipende come interpretare il disegno, cioè come è poggiato sul piano il nostro pezzo. Cioè se vi danno come partenza, vi dicono questa qui è la vista dall'alto, è ovvio che poi le viste qui non si trovano più come le ho rappresentate io. Cioè perché se questa è la vista dall'alto andrebbe rappresentata qui sotto, questa andrebbe qui e questa sarebbe lievemente diversa. E così via. Quindi tutto dipende diciamo da come si parte, dalle indicazioni che danno durante le prove eccetera eccetera che dà il docente durante le prove. Però sostanzialmente questa è corretta, così come l'ho fatta io. Ci sono un po' di linee un po' troppo vicine, quindi bisogna zoomare magari per vedere un po' i particolari. Però sostanzialmente la proiezione si va a fare così. Cioè si divide il foglio in quattro parti, otteniamo praticamente un piano orizzontale, piano verticale, piano laterale. E' un piano di ribaltamento, quello dove io ho fatto praticamente, o di rotazione dove io ho fatto diciamo gli archi, immaginando di avere un compasso tra le mani per riportare appunto i punti, le proiettanti. E le regole basse sono quelle di andare a utilizzare vari layer, varie matite, come vogliamo interpretare sul disegno diciamo su carta, vari stili di linea, le linee grosse e spesse per gli spigoli in vista, le linee ovviamente che devono essere anche continue, le linee sottili continue per le proiettanti, le linee sottili tratteggiate per gli spigoli non in vista e così via. Le proiettanti non vanno cancellate come ho fatto io, ma vanno tenute e vanno rappresentate su carta con la matita quella leggera e devono essere diciamo quasi invisibili. Ciò che si deve vedere è quello che noi abbiamo lasciato qui. Mancano anche, abbiamo detto, gli assi di simmetria che potrebbero essere rappresentati con questo tipo di linea che la tratto punto. Anche in questo caso sicuramente andrebbe modificata la scala che va poi adattata alle dimensioni del disegno.